Eurocom presenta la scala fai da te. In un solo giorno, in ogni tipo di ambiente e senza alcun intervento di muratura, puoi scegliere e installare la tua scala. La soluzione fai da te per ogni esigenza di spazio. La scala fai da te Eurocom è realizzata combinando i colori dell'acciaio, nero, bianco o grigio, con i gradini in massello di faggio. Il corrimano è in legno, alluminio e PVC. Vieni da noi, saremo lieti di fornirvi tutte le soluzioni per i vostri spazi e preventivi gratuiti con pagamenti molto agevolati.